Salute a tutti i amici di EIA TV, benvenuti in una nuova puntata di Voedos & Son, sempre in compagnia di Alessio Mura. Sospetti, cosa nostra di oggi è Claudia. Salute Claudia! Salute a tutti e a tutti! Come ti andavo? Bene, bene. Tagato che si informa, sempre in movimento. Non gli anticorrenti, sempre in movimento. Tocca da noi il gusto, noi scelti questa musica, ma è su sport. Sì, sì. Comentino a Vittorio che vedo, su Presidente Cosa Nostra. Tu salute a usi. Sì, sport che vai su me e sapere il mio lavoro. Certo, certo. Ma oggi è così noi che vuoi dare la musica, insomma, devi essere una cantante, un'artista, sapere cosa tu vuoi essere a giro a giro. Comentino a te sul titolo del suo tipo di disco Cosa Nostra. A giro a giro questa musica, a giro a giro questa artista. Insomma, questo è il nostro disco, qualche mese a voi. Il suo titolo è il proprio gusto. A giro a giro. A giro a giro è il suo secondo disco. Il suo primo è via da Aichi, che ho messo l'anno passato. In questo disco abbiamo collaborazioni importanti. A giro a giro ho lavorato con un quartetto di art. Ah, quindi insomma, questa è musica da camera. Sì, sì, sì. Cosa elegante. Certo. E abbiamo collaborazioni, sì, ancora. Abbiamo contato la vita che avevo fatto ogni giorno, a giro con la Sardegna, e non ho scelto. Quindi abbiamo chiesto una altra borsa, e abbiamo lavorato pure con il circolo sardoso fuori dalla Sardegna. Eh, ti sono salutato, Sì, ti sono salutato. Amico nostro, anzi, non so, sul programma cosa nostro, ma la televisione cosa nostra, e ti voglio chiedere un po' esso sicuro che si ascolta. Quindi ti sono salutato sicuro. Grazie sicuro a questa associazione di Brincamo, che si è giudata a traballare in fora, e sei sempre a giro a giro come ti ho usato. Canto canzoni se ci punti dentro di questo disco. Treggi. Sì, 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 sì. Ma è un numero molto ottimo? Insomma, treggi? No, è benissimo. Ah, Aici. No, no, no. Non ho chiesto di nuda. È benissimo di Aici. C'è questa musica blues, musica country, c'è anche anche funky. questa volta. Sì, come sempre ho lavorato con il mio padre, e poi ci sono la cima della sua linda nostra. Sì, sì. Ha bello a bello da se sono i miei parenti sempre in mezzo. Haici doggio. Sì, sì. Ascolta, questo disco è che io, insomma, sono state scoperte, come ti eseggi a fare di promuovere? E come ti eseggi a fare di questa musica dosata, questa musica sarda? No, ho lavorato molto con internet, con internet. Ho già deciso, questa... siamo subito in un'epoca una cosa complicata, tu ci sei pure, e il logo si può traballare e che tu devi sentire circa i due. Certo. E internet è una buona maniera di traballare, e teniamo su un sito web, che ci si narra, che è www.agiruagiru.net e in cui si può cantare tutto, che ho letto sopra dei suoi progetti, sopra della musica, dei suoi concerti, e questa cosa. Sì, questo ho lavorato, sì, in internet, e ho intentato a traballare con i giornali, e cose locali. insomma, ci sono mesi che fai, sempre, in ogni giorno, quando mi sci, quando mi sci, quando mi dormi, ci sono i suoi bandi, e ci sono i suoi bandi, e mi balli. Quindi, in questo caso, è sicuro una bella opportunità, vi ho detto, se ci vedi la musica, se ci sono attenti, in questo caso, se ci sono giudice, che mi piace, se ti senti capito, se ti senti capito, se ti senti capito, se ti senti capito, con le cose molto importanti, ci hai visto che ricosti evitare un'etichetta pezzi, ci hai visto anche sanno nel tempo, insomma, ci sono usati over discoglie, non per noi, ci hai visto anche le auto-produzioni, Leandro ti costi fare il nostro gruppo in Sardegna nel 2014? Eh, musica Km Zero, icanze, la staggia diremmo collection… e ho avvi Alde� di valorizzare questa agricoltura, об Зем gemacht. … Della stessa maniera per noi è importante aiutare e valorizzare la cultura della Sardegna Poi, poi, iniziare a fare la giuda di Ebru, prima di tutto, entro il nostro primo e poi, iniziare a valorizzare la cultura della Sardegna Questo è la musica a chilometro zero Noi ho intenzionato a fare un tanto tempo, mentre ho parlato di lui E io ho pregiato, devo vivere dei degniamenti con questa musica Non posso sembrare ricca o nocivita, ma io ho pregiato E oggi ho pregiato già questa cosa importante Certo, poi, questa maniera di usare su questo che si va e conosci a giro a giro mentre si andano a te in questo concerto, su questo è la cosa principale Ne fai in mezzo? Sì, sì Prima di tutto, io andavo in Donia Logo e sui locali di Vitticheddu, in Sabida Sperdia, in San Montagna e su alcuni importanti Sì, sì Prima di tutto, io andavo in mezzo, e dove andavo in mezzo Secondo, poi ti fai conoscendo, mentre si andava giustamente lui e questo è importante a si muovere, a girare, a girare E girare, a girare Andavèi, ora ti fai un bello video, cosa tua, sul disco Beccio Sa canzoni, l'intro, ti fai gustare la canzoni Cioè, un amico caro che è Nicola Macciopo, sconato come è Gio Perrino Su l'intro di questa canzoni e sul video che andavo in mezzo tu si impari, esti bordo Sì 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 È ci Ma si la saù, è ci Quem se paraula si è non ci che stendo a basso forno a tobiai a pivellendi con cosa pur ricca chi sciti bene in casa e sì con me e mi da bolli fai pagai se è spurdo che mi lascia se è spurdo che mi molla se è spurdo dindi andassà se è spurdu dubu 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 tu ca' ruese es 65 si è spudendo con me ma mi da bolli è saccare tra popi più come te mence ok mi doppia sta stontanarti chi ti casse o corsa che da No, caffiaccio che ne con consabito ciò che qui Non è puricca buona menta a me E mi voglia c'è di salurare Se sporda che mi lascia, se sporda che mi molla Se sporda rende a nasa, se sporda, burda, burda Burda, burda, burda Arrori manno, nocibozzo, grei Casa burrica e moies di una mongia E sa cosa che fai febbi a me Se tu i cassetti e peus coiai Giada bovata, bella gossa, chei A tina raggi si no pens coiai Tocca bene, a capa di ceriai Cari nel tempo vuol ci benzi Se sporda che mi lascia, se sporda che mi molla Mi lascia, se sporda rende a nasa, se sporda Se sporda rende a nasa, se sporda che me la sa sa se sborda che me mo la sa se sborda rete alla sa se burda 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 Dirretta? E poi siete con questo bello video burdo con Claudio Aro e se mi conosco Nicola Macciolo lo sconduto come gioperino, lo saluto, ciao Nicola, lo saluto e non dobbiamo insomma spero di essere sempre uguali, sempre uguali, lo aspetti in questa trasmissione cosa nostra Ascolta Claudia, hai posto il corso ieri passato a vostra elettronica sull'oggetto del Bentezois e si è arrivato invece ad un show vero importante, questo beandai a Reo, come giro a giro come era tu, con una drumma musicale, con un gruppo, quindi musica live, il nome che non fessa l'hai scrivendo questa prima, però c'è questa elettronica, si è trovata diversa come ti metti mai con questo show vero? Non ho visto che se ho trovato un po' qui a Dio ha un po' inghizzato di aici e ho venguto della musica blues, della musica jazz e ho studiato un po' a fuori di questa sardegna burda e ho avuto il bentezo che è stata un'esperienza meravigliosa con il mio regalo casa lui e il tuo. Ho deciso di rai su la prima amore che è di capire la sua musica acustica e ho avuto adesso, ho trovato un musicista da Mila Brava, come Nicola Marcello Pillei, di Bidegidro, che sono della salsa chitarra sul po' lele sul benzo e Matteo Maroncio, del castello, che ha santo su Contrabascio. In Parisi ho usato due discosso in due anni, mi dà la fortuna di Beh, adesso riesci in un giallo, non è che staccavano, eh? Certo, certo, no, infatti, ovviamente arrivai a questo cuore, se adesso che quando si fa anche i progetti, adesso, come ti... E ti intendi, sì. Sì, quando si fa anche i progetti, adesso, quando si fa anche i progetti, adesso, l'importante, se gli vuoi, anche il RCO, si appoggia, quando sono andati a questa critica, quando sono andati a questa critica, quando sono andati a questo pubblico, come è andato a questo progetto del ben intenso, avete scritto un bello progetto, chi dà il gioco, che è questa possibilità, di andare a una nuova carriera, conoscete in Sardegna, ma ora pure, insomma, mi ricordo che sono fatto qualche concerto, in pari pure, non si può interrimare questo progetto. Però tu hai la sua formazione, in realtà, musicale, artistica, che è arrivata da Foras, tu hai assistito a Foras con me da tempo, su? Sì, sì, devo appunto. Questa storia cosa ti ha detto a voi? Non dà c'è io, no? Sì, devo, mi dicevo andato a Sardegna, poi ci credo anche qualcosa, no? E poi inizia l'università in Bologna, da fare un lavoro, in Bologna, in Bologna, in Barcellona, tre anni, in America, a New York, un altro anno, in Bologna, e a Roma ho fatto un Master, in questa università, in questa Sardegna. A Sabinia, mi dicevo, a cattare a caso di via Cicchendi di Sardegna, e dopo, a cattare a Foras, da Sardegna. Eh, succede, eh? Sì, sì. Sì, sì. Mi piace Cicchendi l'identità di Sardegna, da pagata da Foras, e dopo il decidio di andare in Sardegna, non è stata una penitenza, no? Sì, sì, sì. Mi piace Cicchendi, l'identità di Sarda, da pagata da Foras, e dopo il decidio di andare in Sardegna, non è stata una penitenza, no? Certo. E c'è questa penitenza che traballa in noi, no? E noi stiamo facendo. C'è cosa, ma... Noi stiamo facendo. Noi stiamo facendo, sinceramente, quando vivi in Sardegna, non stiamo bene un mese in vacanza, in verano, ma vivi tutti i anni e noi stiamo facendo. Però, abbiamo questa possibilità di vivere una vita bellissima, no? Che insieme da noi, però abbiamo l'uso l'uso di incanto e gente bella, no? A Sardegna. Grazie. E' una qualità di vita ma non da pagare di mai, come si parla. Cosa è sicuro. Ascolta, l'ultima domanda, proprio con l'Ompi, ti faccio domanda e io la ho risposta subito e ci siccala, no? Come si parla. Si. 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 Poi, è difficile vivere di... di ogni cosa. Di ogni cosa. Di ogni cosa. Di un amico, architetto, professore, ingegnero, avvocato, che non vivono serenamente, come te e me. Però, in pruso, non so che ne uso che ha tenuto il lavoro proprio per essere molto. Si. Si. E poi, si vuole essere ricco. ma si vuole il bifo. Si. Andrà bene. E mi piace, ci sono i miei video di Claudio Aro, giusto questi pochi loci in Malunitos. Si. Oh, la 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 la, lai la 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 la, si. 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 Se sono un montone di macchie che non sei buona fai nuda Sì, nanta, che se sono schienze e mentalità di imprenditoriali Sì, nanta, che non sei un popolo unito poi da manco si comprende Sì, nanta, che se sono geloso, derrò tu e che non sei un traballo a imparare Pocos, locos e maluniti, santi nausi, spagnoli, sdenoso Pocos, locos e maluniti, mani assumi le gincuie Oilala, 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 oilalala Oilala, 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 oilala Obreo, che gusta la storia, sei morto e che è ora che esiste, dai Oilala, 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 oilala ma l'unido se un nocci greu man curu bagu pocos locosi ma l'unido sto cavoneusi a drapala oi la la oi la la oi la 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 oi la 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 oi la 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 oi la 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 pocos locosi ma l'unido sacrabans de pogai scusas pocos locosi ma l'unido sto pollo essi bruna colonia mai brun oi la la oi la la oi la 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.